L'emergenza sanitaria torna a colpire gli aeroporti. Dal 9 gennaio la compagnia irlandese Ryanair sospenderà infatti tutti i voli attualmente attivi nello scalo aeroportuale pescarese tranne quello per Bergamo, Orio al Serio. Non saranno così più operativi almeno fino all'inizio di febbraio i voli verso Bruxelles, Charleroi, Bucarest, Francoforte, Malta, Torino e Londra. Alla base della decisione l'aumento dei casi di positivi in Europa c'è preoccupazione in vista dell'inizio del 2022. Sì è una doccia fredda anche per noi dal 9 gennaio al 31 gennaio Ryanair ha cancellato tutti i voli in gran parte degli aeroporti regionali d'Europa colpisce questa situazione anche il nostro scalo abruzzese e rimane in essere solo il volo da e per Bergamo in questi giorni. Un aspetto molto negativo sia per il nostro scalo per il nostro aeroporto che vedrà diminuire la mole di lavoro e tutto ciò che ne consegue ma soprattutto è un disservizio per tutti gli utenti e passeggeri abruzzesi che sono abituati anche ad esempio a prendere il volo per Bucarest o per Torino. In prospettiva Presidente cosa si può dire per il 2022? Ci sono diversi punti interrogativi un po' per tutti gli scali italiani però la situazione in questo momento non induce molto all'ottimismo. Purtroppo non può essere una magra consolazione che è una vicenda che vale per tutti gli aeroporti nazionali e internazionali perché la flessione è evidente e colpisce tutti e i segnali non sono incoraggianti questo non ci consente di stare con le mani in mano ma stiamo continuando a ragionare con i vettori presenti in aeroporto e anche qualche ed un altro che potrebbe arrivare. È pubblicato un bando della regione Abruzzo per l'incentivazione sulle nuove rotte certo il timing non è dei migliori però continuiamo a ragionare anche con i vettori non presenti per far sì che un'eventuale ripresa, un eventuale inizio summer 2022 sia almeno al pari di quella 2021. Le vacanze di Pasqua voi pensate, sperate che la situazione possa cambiare, migliorare mancano ancora alcuni mesi? Se analizziamo quello che abbiamo fatto nelle vacanze natalizie quindi abbiamo comunque ripristinato il volo per Palermo ragionando con il vettore volotea abbiamo raggiunto dei risultati positivi poi purtroppo i numeri e la pandemia ci hanno colpito e ha colpito l'intero mondo anche nelle festività natalizie noi per le vacanze pasquali faremo lo stesso tenteremo di aumentare frequenze rotte ma poi purtroppo non gestiamo i numeri legati alla pandemia.